Migliora la viabilità all'ingresso di Teramo con l'apertura della mega rotonda ipogea di Cartecchio Villa Pavone, inaugurata alla presenza di autorità civili e religiose. Un'opera strategica che ha lo scopo di eliminare i quattro passaggi a livello che si trovano nella zona. L'intervento è stato realizzato da Ferrovie dello Stato e in parte finanziato dalla Regione Abruzzo, con l'allora assessore regionale ai trasporti Giandonato Morra. Perché era così importante quest'opera per Teramo? Questo è un finanziamento che ho curato io. Va inserita tecnicamente in quella che è una politica di sicurezza di Ferrovie dello Stato. Voi sapete benissimo che il passaggio a livello di Cartecchio, quante problematiche, oltre di separare due zone della città, ma ha creato la viabilità, quante volte è stato di ingombro e quante volte anche si sono stati degli incidenti pericolosi anche per l'inconunità delle autovetture, e dei cittadini. All'epoca, quando ero assessore, c'era la possibilità di finanziare, ma non è stata finanziata a Teramo, importante per Teramo, ma io finanziai l'eliminazione di passaggi a livello in varie zone. È stato Teramo, ci sono alcune zone dell'Aquila e anche alcuni tratti dei passaggi a livello sulla dorsale Pescara-Solmona. Quest'opera, quando sarà finita, ridà libertà a una zona dove c'è anche la zona artigianale, molto importante, anche antropizzata commercialmente a livello abitativo, insomma una zona dove c'è tanta gente, sia che lavora, che ci risiede, ma non avrà più quel blocco pericoloso di quel passaggio a livello che, ricordate, alcune volte furono sfiorate anche delle tragedie, ci furono dei feriti. Con la fine dei lavori da oggi riapre anche la Statale 80, chiusa al traffico nel tratto interessato dal cantiere ad aprile 2017. All'inaugurazione della nuova rotonda di Cartecchio-Villa Pavone, insieme al sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, è intervenuto anche l'ex primo cittadino Maurizio Brucchi, un'infrastruttura viaria vitale, alla cui realizzazione hanno contribuito negli anni tutte le amministrazioni.